Per Federico! Per Cano! Prima la protesta al COISP, un sindacato di polizia. Poi l'occupazione temporanea di Equitalia e di una sede della BNL di Napoli con tanto di spumante e coriandoli. Infine l'ingresso in una delle torri del Maschio Angioino da cui hanno srotolato uno striscione. I militanti del laboratorio occupato in surgenze hanno scelto sicuramente un modo originale per festeggiare i 10 anni di militanza. Era infatti il 4 gennaio del 2004 quando un gruppo di giovani dell'area nord di Napoli decise di occupare una ex scuola per farne uno spazio di militanza. Tante le battaglie condotte negli ultimi anni da insurgenzia, a cominciare da quella contro l'apertura di una discarica a Chiaiano, passando per le dure contestazioni nei confronti di Equitalia, per arrivare oggi alla mobilitazione contro il biocidio in atto in Campania e la costruzione di un nuovo termovalorizzatore a Giuliano. All'occupazione del 2004 sono seguite poi altre due, una in via Mezzocannone, l'altra nella galleria Principe Umberto, in due altri spazi di fatto abbandonati e poi riaperti alla cittadinanza. Sono 10 anni da quando abbiamo occupato una vecchia scuola abbandonata, in via Vecchia San Rocco, che un gruppo di studenti precari, ragazzi di periferia, hanno occupato uno spazio, l'hanno liberato, l'hanno riconsegnato alla città e hanno prodotto centinaia di eventi culturali all'interno dello spazio occupato e hanno prodotto tutta una serie infinite di lotte all'interno di queste città. Ricordiamo negli anni, ad esempio, la lotta di Chiaiano contro la discarica di Chiaiano, oggi la lotta contro il biocidio per fermare le catombe in atto qui in Campania, ma non solo, studenti universitari, fiume in piena, anche movimenti di lotta per l'abbattimento delle vele, per la riqualificazione dell'area nord, un altro centro sociale occupato al centro storico, mezzo cannone in piena zona studentesca, un'occupazione fatta da studenti della Federico II e non solo, è difficile descrivere dieci anni di storia personale e di storia di una collettività in movimento.